Ciao cari bambini, sono la Befana e abito a Boston e quindi sono americana, americane e sono anche italiana, italian. Oh, nella mia patria Italia vorrei tanto andare, ma negli aeroplano non mi fanno entrare perché il naso è troppo lungo e il finestrino è un pungo e poi la mia gobba è troppo grande e sono così vecchia che ho i buchi anche, shh, e le mutande. Oh, e allora, in Italia, come ci posso andare? Oh, una nuova scopa è apparsa per magia e forse, chissà, nella mia Italia mi porta via e dove mi porterà? Oh, oh, ma dove sono? Oh, e guardate questo ponte, a bridge, sembra molto vecchio, very old, più vecchio di me. Oh, ma è proprio un posto bellissimo, beautiful. Ma quale città è? In quale città sono? Dove mi ha portato la scopa? Indovinate, bambini? Guess? Scrivetelo nei commenti! In what city? In quale città? Oh, ma che bellissimo palazzo! Gelato! Oh, ma allora dove mi trovo? Oh, signora, che c'è qualcosa che non va? Ecco, vorrei chiederle, per favore, in che città ci troviamo? A Firenze! Ah, Firenze! Florence! Florence, sì, sì! Florence, allora grazie e arrivederci, goodbye! Allora sono a Firenze, l'avete riconosciuta anche voi?